e con il numero 9 o Asterix Sadri e con il numero 10 abbiamo Nadler, i cavalli sono schierati dietro al mezzo meccanico pronti per partire per questa terza corsa, questo premio Brasil che parte in questo istante con subito al comando all'interno c'è in questo momento Oise dei Greppi quindi a centro corsia, vediamo Fabrica Como mentre all'esterno guadagna il comando della corsa Nice to meet you che va quindi a comandare questa terza corsa sulla sua scia c'è Oise dei Greppi quindi in terza posizione Fabrica Como Passaggio ai 200 metri avvenuto con il tempo di 14.3 da parte del battistrada sempre al comando della corsa Nice to meet you quindi a seguire sulla scia c'è Oise dei Greppi mentre vediamo all'esterno guadagnare posizioni Principe Sarex in quarta c'è Fabrica Como Passaggio ai 400 avvenuto con il tempo di 29.7 sempre al comando della corsa Nice to meet you mentre all'esterno sta cercando di attaccare il battistrada Principe Sarex quindi a seguire Oise dei Greppi in quarta c'è Fabrica Como Passaggio ai 600 metri avvenuto con il tempo di 43.3 vediamo i cavalli transitare dinanzi alle tribune con Nice to meet you numero 6 Oceano E.K. squalificato sempre al comando della corsa Nice to meet you il passaggio agli 800 metri avvenuto con il tempo di 59.3 i cavalli affrontano questa nuova piegata con Nice to meet you al comando quindi Principe Sarex all'esterno all'interno c'è Oise dei Greppi in quarta posizione Fabrica Como Passaggio al chilometro avvenuto con il tempo di 1.14.5 sempre Nice to meet you che sin dalle prime battute comanda l'andatura e fa l'andatura in questa terza corsa premio Brasil cede leggermente all'esterno a Principe Sarex e rinviene quindi guadagna la seconda posizione Oise dei Greppi sempre però al comando Nice to meet you cavalli che affrontano l'ultima piegata di questa terza corsa con Nice to meet you al comando leggero vantaggio su Oise dei Greppi quindi in terza posizione c'è Principe Sarex all'imbocco della retta d'arrivo Nice to meet you al comando di questa terza corsa cerca di guadagnare sempre più spazio e lo guadagna rispetto alla seconda posizione ed è Nice to meet you che si avvia a vincere infatti vince Nice to meet you davanti a Oise dei Greppi terza posizione per Lothar B Ciao!